Ecco, a Marella volevo chiederle che esperienza è stata, insomma, seguire Caccia in questo viaggio, mano a mano, non ti vediamo mai nel film, però ci sei, cioè la tua voce è sempre... Mi ha tagliato tutte le mie scene, non voleva che ciò stia scherzando, non ci sono perché stavo riprendendo, cioè riprendevo il suo racconto, era la sua storia, quindi non aveva senso così. Sì, esperienza spazzesca, cioè spaventosa, ma l'esperienza più bella che abbia fatto finora, forte, ho tanta paura come avete visto, però alla fine era anche un on the road, quindi ogni tanto cercavamo di non pensare a quello che stava succedendo e avevamo anche dei momenti di leggerezza, no? Perché se no andavi completamente fuori di testa, eri proprio in vortice di... nella tragedia, eri in un posto dove c'era un'aria triste... Qual è stato il momento più difficile che avete passato, perché ce ne sono quando per esempio siete arrivati lì in piena notte con il navigatore che non funzionava più bene, insomma... Qual è stato il momento in cui magari vi siete sentite un po' perse? Io quando ci siamo separate, lo racconto, cioè, quando eravamo insieme, bene o male, nel terrore, ci facevamo coraggio, invece quando ci siamo divise, lì ho detto, ora, là ho proprio temuto che se fosse successo qualcosa, in quel momento non avrei saputo che fare, perché eravamo separate, quindi... Non parlo colacco, era un posto che non sapevo neanche pronunciare, non sapevo pronunciare neanche il nome dei posti dove andavamo, quindi... Lei se n'è andata, i cellulari non erano sempre raggiungibili, quindi la seguivo con un'app, perché avevamo un'app per controllarci, per non... Se fosse successo qualcosa, io vedevo il suo telefono, lei mi avevamo una specie di controllo... Un GPS, diciamo... Era un'app, sì, quindi quando lei è andata da sola al confine, vedevo la faccia di Kasha che arrivava quasi in Bielorussia, dicevo adesso questa passa al confine, no? Quindi avevo l'ansia che facesse una cavolata, no? Invece è tornata, però io ho avuto paura da sola, finché eravamo insieme, la paura lì ti passava perché avevi un obiettivo, cioè stavi lì per quello, quindi... Non c'è la paura, sapevi a cosa andavi incontro, però gli stacco un po' la paura che succedesse qualcosa all'altro, secondo me era più forte perché non avrei saputo, cioè non potrei andare alla polizia, perché ho perso la mia amica mentre cercava di andare di nascosto a vedere il muro, in polacco poi, no? Certo, e quanto girato avevi quando sei tornata poi in Italia, perché poi ci avete messo tantissimo per montarlo, no? Sì, ci abbiamo messo nove mesi per montarlo e avevamo un sacco di giratori, non lo so, nessuno riesce a capirlo, da un centinaio, c'è chi dice 120, c'è chi dice 140, Ma non è il problema che era roba presa dai telefonini, roba rubata, cose che bisognava andare a scoprire, solo perché mi ricordavo che un soldato ha detto, non è questa cosa qua e andare a cercare tecnicamente una cosa, cioè non era facile questa cosa qua. Beh, il montaggio era stato molto difficile e anche molto lungo, anche perché appunto essendo in due lingue, praticamente nessuno, molto pochi, invece qui ci sono delle persone molto pochi, riescono a imparare quella lingua lì, dove ogni tanto arriva la vocale... Non è una vocale perché non parli polacco, certo? Non è che giusto dire, quando ti arriva una vocale, tu dici, una vocale, 12 consonanti di sé, cioè impronunciabile, è molto difficile, quindi avere un montatore che parlasse il polacco, impossibile. Montarlo con un montatore polacco senza italiano, è stato abbastanza complicato e poi la fine è l'unica che potrà spesso e volentieri risolvere delle questioni di convenzione di te. Due iPhone 13 Pro, lei ha comprato... È una bella Panasonic. È una bella Panasonic, ha comprato la signora qua, abbiamo imparato come usare i microfoni e erano piene di roba, imparata velocemente perché... Perché, appunto, ci è saltato, insomma, è scoppiata la guerra e quindi siamo partite poi lo stesso, però... E quindi giravamo anche un sacco, questo anche dovuto al fatto che succedeva sempre qualcosa, ma anche al fatto che non sapevamo cosa raccontare, no? Quindi vai, lei girava sempre, anche in macchina, quindi... Sempre, sempre, devo dire che è stata una salvezza che ha girato sempre, i telefonini sono stati una salvezza, per quanto quel mezzo... Però lo conosciamo molto bene, no? È impreciso, è sfocato, è digitalizzato, però in questa storia era più immediato. Io penso che raccontare questa cosa qua, con i mezzi un po' più complessi, avrebbe creato una specie di stacco, un filtro, che non volevo mettere un filtro, volevo proprio come... Volevo che lo spettatore fosse all'interno della storia.